Gli highlights sono offerti da Salumificio Sandri Tutto è pronto dal comunale di Gambassi Terme per la quattordicesima giornata La prima di ritorno del girone C di promozione toscana tra Gambassi e Colli Marittimi Giudicina era di rigore in mezzo a quattro si mette sul Mancino E' tornato! Matteo Giudici con un gol fotocopia dell'ultimo a Monte Rotondo Rosi contro Frongillo come all'andata dagli 11 metri Parte Rosi e va al centro e Frongillo si butta alla sinistra Fabri che si fa largo al limite dell'area la palla al centro Milano Palo! Ancora Milano! Al sessantasettesimo tornano in vantaggio i Colli Marittimi L'uomo delle trasferte Nicola Milano Startale spazza via la palla buona per Bassa che va al tiro E fa 2 a 2 all'ottantesimo scenario surreale Matta è ancora dopo 10 minuti a terra c'è una scena incredibile L'ambulanza è arrivata dopo 22 minuti ma non può entrare Perché il portellone è chiuso e lo portano via in barella Frongillo e Mike Giacco! Incredibile! Finisce quel match e si forma un inevitabile capannello Ma era inevitabile lo ripeto perché giocare 25 minuti con Matta Piangente a bordo campo è stato qualcosa di ignominioso L'ambulanza che non entra, la barella che non arriva Mette decisamente in secondo piano il 2 a 2